Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tappeti Tappeto Kazak 224x168. Questi tappeti sono annodati a mano in Pakistan. Il disegno si ispira ai motivi geometrici russi e la lana viene tinta con pigmenti naturali. Sono tappeti resistenti all'usura, dai colori vivaci. Per ottenere la caratteristica lucentezza, vengono lavati con le pietre. Seconda scelta. La preghiamo di notare che, la forma del tappeto è asimmetrica. Lavorazione, annodato a mano. Spessore circa. 6 mm. Pelo, lana. Ordito, cotone. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.